Per fortuna ho lasciato Milano piovosa e qui trovo il bel tempo. Sono appena tornato da Monaco e solo adesso rimettendo insieme tutti i pezzi mi sono accorto che ho preso l'aereo per raggiungere una città europea a 30 euro. Sono andato perché qualche giorno prima ero stato contattato da un ragazzo che mi aveva proposto uno scambio di casa e dopo esserci conosciuti un po' ho deciso di accettare. Quindi il costo dell'alloggio 0 euro. Una volta lì, vista anche la pioggia, era scomodo prendere i mezzi. Allora ho scelto tra centinaia di macchine parcheggiate che potevo prendere con un click su un'app potendole lasciare dove volevo e pagando 2 o 3 euro a noleggio. Rimaneva il problema della lingua e invece... Non sai qual è il tacchino? Tradotto in tempo reale. Quindi quello che ho realizzato è che viviamo in un mondo già pazzesco con opportunità che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate fantascienza e che invece stiamo vivendo. Quindi esploriamo. Oggi non è più un problema di soldi, come avete visto. E c'è tutto un mondo di informazioni e di conoscenza accessibile con un click che ci permette di immaginare e realizzare tutto. Quindi non perdiamo queste occasioni di conoscere il mondo e, perché no, cambiarlo.